14 settembre Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Salmo 119,11 Custodisci la parola nel cuore. L'opera di Dio nella propria vita è la cosa più preziosa che il credente possiede. Cosa c'è di più importante della salvezza e del perdono dei propri peccati? Cosa ha più valore della certezza della vita eterna nella presenza di Cristo? Esistono però delle minacce da cui dobbiamo preservarla. Innanzi, tutta la vecchia natura corrotta che cerca di sfruttare ogni opportunità per tornare a occupare il trono del nostro cuore. In secondo luogo, le preoccupazioni della vita che distolgono il credente dal guardare a Cristo e dal confidare in Lui in ogni circostanza, per far spazio allo scoraggiamento e al dubbio. Un altro pericolo è costituito dalla pressione esercitata da una società che si allontana sempre più da Dio e, dalla sua volontà, e che vorrebbe indurre il popolo del Signore a scadere nella propria fermezza. I ritmi frenetici e le molteplici attività quotidiane, poi, finiscono con l'impedire al cristiano di dedicare del tempo alla relazione personale con Dio. La consapevolezza dei tanti pericoli dovrebbe farci riflettere. Stiamo custodendo l'opera di Dio in noi? Affidiamoci ogni giorno a Cristo coltivando la comunione con Lui e nulla potrà rovinare l'opera di Dio in noi. Scrivici su WhatsApp per ricevere le meditazioni giornaliere ed altro. Grazie per la visione!